Il ministro di Sedriano invita la cittadinanza ad un incontro pubblico il 25 di ottobre che si terrà presso la sala Costa, il piazza di Esminatore, dove si parlerà di amianto, si farà l'informazione che non è mai stata fatta, si cercherà di capire cosa bisogna fare, come bisogna comportarsi e verranno anche dei relatori della IEA a parlare di questo argomento. Siete tutti invitati, numerosi, vi aspettiamo.